Lontani dal colore giallo della zona, il lungomare di Salerno sabato sera alle 9 e non nel cuore della notte si è trasformato in un'arena, in un vero e proprio duello con tanto di coltelli, spranghe e mazze di legno. Potrebbe trattarsi di una spedizione punitiva, di una lotta improvvisata o organizzata tra bande di giovani scoppiate in una rissa che ha visto protagonisti giovani di 17 anni, uno del centro storico di Salerno, l'altro della zona orientale della città. L'arrivo delle forze dell'ordine a sirene spiegate richiesto al centralino del 112 ha portato gli agenti della polizia ad intervenire sul lungomare Trieste presso un noto locale fast food dove alcuni giovani avevano cercato riparo mentre la massa richiamata dal suono delle sirene si è messa in fuga. Coltelli tra i due giovani ma anche spranghe di ferro, quanto accaduto è all'esame della polizia che ha sequestrato diversi filmati delle telecamere di videosorveglianza di alcuni locali della zona, nonché quelli amatoriali ripresi dai tanti giovani e pubblicati poi sui social. Fatti che hanno creato grande sconcerto, un muro di omertà per raccontare quanto accaduto alle forze di polizia ma allo stesso tempo uno spettacolo di violenza ripreso dagli stessi ragazzi spestatori della rissa come un paleo, come un reality che invece di creare spavento ha rappresentato un momento di grande partecipazione dei tanti giovani che lo hanno vissuto tra sorrisi ed entusiasmo come se avessero assistito ad un film. Un distacco dalla realtà che ha creato un ampio dibattito dopo la visione diventata virale dei diversi video sui social, eppure quella rissa o spedizione punitiva avrebbe potuto avere un epilogo diverso. Uno dei minori è ricoverato nel reparto di chirurgia d'urgenza dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno dopo un delicato intervento in seguito alle profonde ferite alla coscia e al gluteo mai fuori pericolo. L'altro invece ha ricevuto qualche punto di sutura in seguito ai tagli riportati su diverse parti del corpo ed è stato dimesso. La dinamica resta tutta da chiarire. Secondo una prima ricostruzione della polizia, la lite sarebbe partita sul lungomare nei pressi della spiaggia di Santa Teresa. Un litigio acceso tra due gruppi di ragazzi degenerato con grande violenza, fino a che, come testimoniano i video della rissa, sono spuntate anche delle spranghe. Una resa dei conti sotto gli occhi di tanti adolescenti a favore di smartphone che si è conclusa con il sangue dopo che sono spuntati i coltelli. Violenza continuata poi dall'altra parte del lungomare, nei pressi del fast food dove hanno tentato di ripararsi, dove i poliziotti hanno trovato tracce di sangue in seguito alla guerriglia.